Buongiorno, io mi presento, sono Giovanna Badano e sono qui a Expo Danza organizzato da Ciro Venosa. Ho appena fatto la lezione di danza classica tecnica cubana, metodologia cubana, con un gruppo di allievi under 14. È stata veramente una bellissima esperienza, bellissimi allievi e portare anche questa metodologia nuova che sto seguendo con la maestra professoressa Dunia Vera Hernandez, col corso di formazione per insegnanti a Milano, per portare e far conoscere questa tecnica che è veramente bellissima e utilissima. Niente, quindi abbiamo fatto questa esperienza, siamo qui a Expo Danza, oggi pomeriggio avremo il concorso di danza, classica, jazz, moderne e tutto. Io comunque sono Giovanna Badano e sono della scuola Studio Danza Varazze.